Ciao amici, guardate che vista, guardate che panorama, c'è che nonna marina che fa la passeggiata massicina con me per la vecchia roba, per la spiagione di tutti, lo vediamo nell'altra prospettiva da questa prospettiva oggi vogliamo salutare i nostri amici veramente eccezionali che dal primo giorno in cui abbiamo cominciato a fare video ci hanno seguito perché sono matti come noi e allora salutiamo Fabri, Maria Bonaria, Dante e Stefano amici carissimi, ma ve li immaginavate che ti avremmo salutato dal canale YouTube? spero che stiate trasportando una bella estate, che stiate andando al mare almeno qualche volta noi vi mandiamo un abbraccio grandissimo da GoToBeach ciao ragazzi, ciao a tutti, a tutti i nostri amici, buona giornata